In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo riguardanti questo fine settimana, puoi aggiornarci sulla condizione del tempo attuale? Tutto il bacino del Mediterraneo continua ad essere interessato da un campo di alta pressione di matrice africana che determina condizioni di tempo stabile con temperatura al di sopra della media del periodo. Nelle prossime ore assisteremo ad una forte espansione del promontorio africano per cui sulla nostra regione l'ondata di caldo raggiungerà l'apice, aumenterà inoltre anche il tasso di umidità relativa con conseguente disagio fisico, soprattutto per i bambini e le persone anziane. A partire da domenica 16 giugno l'alta pressione inizierà a cedere. E per le giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno cosa ci puoi dire? Per domani sabato 15 giugno avremo cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, con condizioni di caldo afoso e opprimente, specie nelle aree più interne della regione. Situazione di forte disagio fisico tra il Vallo di Diano e sulle pianure del Casertano e del Beneventano. Temperature stazionare su valori molto elevati, venti deboli di direzione variabile ma ricalmi. Per domenica 16 cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con maggiori addensamenti lungo la dorsale appenninica, ma il rischio di precipitazioni risulta basso. Temperature in lieve diminuzione ma con valori ancora al di sopra della media del periodo. Venti deboli da nord-ovest con locali rinforzi, mari tra poco mossi e mossi. Per quanto riguarda invece la tendenza della prossima settimana, come sarà il tempo previsto? Nella giornata di lunedì l'alta pressione africana subirà un ulteriore cedimento, consentendo l'ingresso di correndi occidentali che determineranno un'ulteriore diminuzione delle temperature. Non arriverà il fresco, intendiamoci, bensì avremo il ritorno a temperature più consone alla media del periodo. Nella giornata di martedì potrebbe verificarsi anche qualche isolato rovescio temporalesco nelle aree montuose. Estate dunque che non subirà alcuna crisi, anzi, le temperature durante le ore diurne si manterranno su valori prossimi a 30 gradi centigradi. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare il sito www.meteosette.it